Ciao ragazzi e benvenuti qui in questo nuovo video Oggi siamo qua per andare a fare la reaction a uno svedese che fa gli spaghetti Chi sarà mai questo svedese? Let's make some goddamn spaghetti The first thing you need to do for a successful spaghetti Is chop the onion So let's travel Prende la cipolla Poi io solitamente non ce la metto Ah le vuole trittare Oddio aiuto Gently Cioè la cipolla io la metto solitamente la metto non intera ma fetti grandi poi le tolgo dopo Se no la tagli bene Va bene Passando tutto il tempo per tagliare una cipolla E sono passate tre ore A parte i coltelli in giro Ok padella e fin qua ci siamo E voilà Olio d'oliva Un po' di cipolla A parte il bar Sta accendendo tutti i fuochi raga Mette la cipolla Ok ce l'ha fatta Come ho fatto a versare tutto Ma dai Eh sì come sclerare Un po' di cipolla Un po' di cipolla Ah vuole fare il sugo Ti prego il ketchup no PewDiePie non puoi fare questo Il ketchup negli spaghetti no 400 ml Mezzo litro quasi Per adesso può andare tutto bene Tranne il ketchup Per favore PewDiePie Sta per arrivare l'incalzatura Guarda che faccia Ecco Ha versato il liquido Degli spaghetti No il ketchup No il ketchup Non che Per fare questo Lui ha fatto Questo casino Come Ragazzi questa è la reazione A PewDiePie cucina gli spaghetti Quindi io spero che il video vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto Vi dite un bel like Commentate e iscrivetevi al canale Mi raccomando Tentiamo di arrivare a 50 iscritti O perlomeno a questo video Almeno 10 like Per favore Una roba epica Se volete un'altra reazione Un video di PewDiePie Ciao raga Ciao a tutti Ciao a tutti